Ecco che l'idea che noi si sia trascorso un periodo molto lungo, parliamo di alcuni milioni di anni nel bagnasciuga, acquista un senso molto preciso. Le donne stanno in acqua e i bambini stanno aggrappati ai loro capelli ed ecco perché le donne hanno dei capelli così solidi e così forti. I bambini neonati appena escono dalla madre sono già in grado di nuotare e questo è perché si partoriva in acqua e tutt'oggi il parto in acqua ha dimostrato che ha tutta una serie di vantaggi. Anche la lacrimazione degli occhi è una particolarità che condividiamo con i mammiferi acquatici e è interessante il fatto che c'è una piccola percentuale, un 10% di bambini che nascono con una specie di pellicina tra le dita delle mani e dei piedi che poi se ne va, che è un sintomo diciamo di un inizio di mutazione acquatica, cioè se fossimo restati qualche altro milione di anni ci sarebbero venute le dita delle mani e dei piedi palmate come le papere. Ma ancora la donna batte l'uomo in uno sport che è la resistenza in acqua. Non c'è possibilità, proprio perché la donna è più acquatica strutturalmente perché ha passato più tempo in termini di milioni di anni in acqua dell'uomo che invece girovagava. Ecco, tutte queste osservazioni sono osservazioni indiscutibili. Noi condividiamo tutti questi aspetti anatomici con gli animali mammiferi acquatici, le sirene, le foche hanno delle similtette, così come hanno il grasso sottocutaneo. Ecco, ma questa teoria non viene assolutamente presa in considerazione dall'intelligenza degli studiosi delle origini dell'umanità. Come erano, come vivevano questi nostri antenati? La teoria ufficiale è molto semplice, si rifà alla nostra vicinanza genetica con gli scimpanze. Sapete che noi condividiamo una cosa come il 97% del nostro DNA con gli scimpanze. Ma quando noi andiamo a osservare gli scimpanze troviamo una società abbastanza dura, abbastanza violenta. Gli scimpanze sono un pochino isolazionisti, sono rissosi, i maschi si occupano poco dei piccoli. E l'osservazione di questa vicinanza genetica tra esseri umani e scimpanze è stata all'origine dell'idea dei nostri antenati come dei brutaloni. Il mito classico dell'uomo con la clava in mano che trascina la donna per i capelli, l'avrete visto chissà quante volte sulle vignette della settimana enigmistica. Ecco, questa idea del rapporto tra scimpanze e primi esseri umani è stata poi la giustificazione per dire ai ragazzi che vogliono un mondo migliore, ma che cosa andate mai a dire? Ci sono certe cose che sempre sono state e sempre saranno la guerra, la schiavitù, la violenza, la prostituzione, sono tutti i mestieri più antichi del mondo. No, come puoi pensare di cambiare la realtà? È sempre stato così. E invece, se andiamo a vedere come stanno realmente le cose, scopriamo che anche questa è una storia falsa. È vero che noi abbiamo una similianza genetica enorme con gli scimpanze, ma, attenzione, siamo veramente simili quelli che hanno più vicinanza genetica con noi. Non sono degli scimpanze generici, ma sono un gruppo particolare, i bonobo. E questi bonobo hanno una storia straordinaria. Perché? Perché fino al 1920-1930 non li avevano visti. È incredibile, perché i bonobo sono conosciuti dalle popolazioni africane, che li considerano loro cugini. Gli africani non sono stupidi. E quando però parlavano con i ricercatori bianchi, gli dicevano, quelli sono i bonobo, sono molto simili a noi, sono diversi dagli altri scimpanze, i ricercatori europei gli dicevano, ma va, cosa vuoi capire? Tu sei un negro, un baluba, un bantù, come puoi insegnare a me, grande professore? Non vedi che quelli non sono degli scimpanze a parte, un gruppo particolare. Sono soltanto degli scimpanze giovani. In effetti i bonobo hanno una particolarità, cioè anche in edad adulta hanno l'aria un po' da bambini, hanno i capelli lunghi come i piccoli di scimpanze. E sembrano proprio degli scimpanze giovani, ma a un certo punto che cosa succede? Succede che arrivano in Africa dei giapponesi, dei ricercatori giapponesi. Sapete con me, i giapponesi a razza inferiore si trovano bene con i negri e parlano insieme, i giapponesi chiedono ai negri, ma cosa sono quegli scimpanze lì? E i negri dicono, cavolo, finalmente qualcuno che ci ascolta, sono i bonobo. E i giapponesi fanno delle indagini accurate su questi gruppi di scimpanze bonobo e scoprono che in effetti non sono dei piccoli di scimpanze, ma sono proprio un gruppo a sé e sono loro i nostri più vicini cugini, che sono restati nella foresta, che non sono andati nell'acqua, non hanno perso il pelo, ma comunque sono l'animale più simile a noi. E perché c'è stata tutta questa storia sui bonobo? Cioè, è chiaro che è un po' strano che i nostri ricercatori europei non abbiano capito i bonobo, ma c'è anche un motivo, perché non gli conveniva di comprendere la vera natura dei bonobo. Perché? Perché i bonobo fanno delle cose che non sono accettabili, non sono raccontabili in nessuna università per bene. I bonobo innanzitutto hanno una suddivisione del lavoro tra maschio e femmine piccolissima. Hanno fatto degli esperimenti, se c'è un pericolo, un piccolo di bonobo salta in braccio a un maschio o a una femmina in maniera indifferente. E anche non soltanto i genitori, ma anche a tutti gli altri del clan, del gruppo dei bonobo. I bonobo sono estremamente gentili e socievoli e hanno poi una particolarità straordinaria. Cioè, quando un gruppo di bonobo incontra un altro gruppo di bonobo vicino a un albero carico di frutta, invece di fare come gli scimpanze che si massacrano di botte per ottenere il possesso dei frutti e mangiarseli tutti, i bonobo fanno un'altra cosa. Cioè, primo di tutto fanno l'amore tutti assieme, maschi e maschi, femmine e femmine, maschi e femmine. Poi, quando sono soddisfatti e amichevoli, mangiano insieme tutta la frutta. E se c'è un bonobo che è depresso, incavolato, tutti gli altri bonobo vanno lì e lo scoprono fino a quando non torna a essere sorridente, felice e contento. E voi capite che un comportamento di questo genere è assolutamente scandaloso e inaccettabile. C'è un libro bellissimo della Hessler, che si intitola Il piacere è sacro, che racconta nei primi capitoli proprio questa storia dei bonobo e raccoglie tutta la documentazione su tutte le ricerche che sono state fatte, non soltanto dai giapponesi, perché poi a un certo punto anche degli europei hanno iniziato a rendersi conto che le cose stavano ben diversamente da come si insegnava nell'università. E noi oggi sappiamo perciò che c'è stato questo periodo dell'umanità in cui possiamo immaginare un'umanità molto pacifica ai primordi. E possiamo anche immaginare che l'essere umano, che è senza artigli, senza grandi capacità di scontro fisico, sia riuscito a sopravvivere a tutte le grandi difficoltà e fare delle grandi imprese proprio grazie a questa straordinaria solidarietà interna. Quando si dice che gli esseri umani primitivi vivevano fondamentalmente di caccia, si dice un'assurdità anche perché non si tiene conto di un problema fondamentale della caccia, cioè il pericolo, perché non è che uno va a caccia e se uno va a caccia di topi, di conigli, non ha dei grossi rischi, ma già andare a caccia di un cervo comporta uno scontro mica male. Figuriamoci andare a caccia di cavalli o mammut addirittura, beh lì c'è proprio il fattore rischio, cioè quanti elementi, quanti maschi rischiano di crepare o essere feriti, che a quei tempi le ferite ovviamente erano un evento gravissimo, in una caccia al mammut. Se la situazione fosse stata come la troviamo disegnata in alcune ricostruzioni, sui libri di testo o sulle riviste scientifiche, diciamo, io credo che ci sarebbe stato un grosso rischio fisico proprio per i nostri antenati e avrebbero rischiato di estinguersi a causa dei rischi della caccia, ma per fortuna non è andata così e la caccia è stata fonte principale di cibo, soltanto in alcune particolarissime situazioni, in alcuni periodi. Per il resto, appunto, insetti, frutta, verdura e, quando inizia la vita lungo le rive del mare, pesce, crostacei e conchiglie, che sono facili.